12 settembre 1913 nasce Jesse Owens, velocista afroamericano entrato nella storia con la sua performance alle Olimpiadi di Berlino del 1936. La prestazione di Owens divenne subito leggenda, sia per le quattro medaglie d'oro vinte nei 100 metri, record olimpico, 200, record mondiale, staffetta 4% e salto in lungo, record imbattuto per 25 anni, sia perché le sue prove smentirono la propaganda nazista, basata anche sulla superiorità atletica della razza ariana. Owens più volte in competizione con i campioni tedeschi li batte uno ad uno. 40 anni dopo quelle vittorie fu insignito in patria della medaglia presidenziale della libertà, nel 1990 dell'ancor più prestigiosa medaglia d'oro del congresso, ma fu un riconoscimento postumo. Jesse Owens, originario dell'Alabama, cresciuto a Cleveland, nell'Ohio, dove sbocciò il suo talento, era morto dieci anni prima a Phoenix, Arizona, il 31 marzo 1980.